Oh, i promotori di Fire Festival sono stati assunti da Bloomberg, un politico che ora vuole sbancare nella politica coi meme. Bene benissimo, facciamo un ricappino. Che cos'è questo Fire Festival? Perché meme politica? Tutto questo e tutte queste risposte dopo la sigla. Attualità, informatica, mondo del web. Questo è tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo di meme politica, la storia di Bloomberg. Come esempio, ma in realtà il mio discorso è un po' più generale perché è veramente incredibile questa roba qua. E adesso la vediamo insieme. A fine 2018 c'era stata l'uscita su Netflix di documentari a tema Fire Festival. Quella che in teoria doveva essere una grande e incredibile festa degli influencer alle Bahamas, ma si è diventato un disastro. E' iniziato con un video promozionale il 12 gennaio 2017 che praticamente diceva che alle Bahamas c'erano Emily Ratajkowski e Belladid. Che anche loro hanno sponsorizzato l'evento e quindi i biglietti che costavano dai 1000 dollari fino ai 10.000 dollari sono andati via tutti. Una roba incredibile, tutti felici. Peccato che in realtà è tutto un casino, è falsissima questa roba. Il tizio che aveva pensato a questa cosa qui non aveva i soldi per organizzare un festival di quella portata. E quindi pochi giorni dall'inizio del festival i Blink-182 dichiarano che non sarebbero stati presenti all'evento e invitano i loro fan a non andarci. E quindi molti ci vanno lo stesso, ma in realtà poi si scopre che le ville sono delle tende e che insomma... Che quindi quelli che dovevano essere letti in realtà non erano ancora letti, ma erano completamente bagnati. Quindi non c'erano abbastanza neanche trasporti per arrivare alle Bahamas, in quella roba lì. E quindi è tutto un disastro. Perché poi i posti erano forniti dall'Exuma Point Resort, che era un locale che in teoria doveva preparare mille pasti al giorno per i partecipanti al festival. Non è stato pagato, quindi ha aperto una campagna dei crowdfunding. Quindi poi Billy McFarlane, quello che ha organizzato la roba, è stato condannato per sei anni di carcere e esercimento per 26 milioni di dollari. Un casino questo Fire Festival, cioè non è che vi ho detto tutto, eccetera. Vi consiglio di guardare davvero dei documentari che ci sono su Netflix perché è incredibile. Ma al netto di questo, gli stessi organizzatori di questo festival, la stessa azienda, è stata assunta da Mike Bloomberg per la sua campagna di meme. Ha affidato Mike Bloomberg a Jerry Media il compito di gestire parte della sua campagna elettorale. In particolare, più che altro, sponsorizzare la sua persona tramite gli influencer e quindi con anche un po' di ironia riescano a far parlare del candidato in modo simil serio, diciamo. L'obiettivo è chiaramente quello di essere ben visto e magari non ben visto sempre in modo super buono, ma comunque notato agli occhi dei giovanissimi. Cioè, nel senso, questa azienda qua poneva l'attenzione su Bloomberg in modo più memistico. Cioè, ora non voglio entrare nello specifico del meme, non voglio assolutamente prodigarmi a sociologo che predirà il futuro. Però io vorrei farvi notare questa grande evoluzione. Questa grande evoluzione che sta avendo i social per quanto riguarda la politica. Ne feci già un podcast tempo addietro sulla politica e internet. Ora in realtà voglio focalizzarmi più che altro sulla politica attiva e i social. Nell'elezione di Obama notiamo come la campagna elettorale, anche grazie a internet, abbia avuto un'importanza notevole. Lei sia stato il pioniere da questo punto di vista. Anche solo per osmosi, ricorderete, la epic rap battle tra Obama e il suo candidato. Io non mi ricordo neanche qual era il nome del candidato. Fate voi quanto è stata importante. E non potevo nemmeno votare, ma a distanza di 12 anni io me lo ricordo ancora. O ma è stato il primo. Poi è arrivato Trump. Trump che in realtà col concetto di meme magic è riuscito a fare quel passo in più verso la strategia Bloomberg, diciamo. La meme magic, per chi non lo sapesse, è il concetto secondo il quale tu per dare potere a un candidato politico dovevi memare su di lui. Su 4chan giravano tantissimo le idee di Trump rese meme o comunque il concetto stesso di Trump presidente del mondo. Oppure, ah ah, sarebbe di mega divertente se diventasse presidente. Immagina che diventi presidente, ah ah lol. E poi l'è diventato. Però, per dare manforte all'estrema destra online che diceva, raga lui dice cose giuste, XD, un po' era ironico, un po' era serio. Però quelli che erano seri credevano appunto in questa meme magic, quindi la cosa diventava ancora più estrema, no? E questa roba qui si è evoluta in quella che io oserei definire strategia Bloomberg. Pagare la gente per fare i meme. Non è la prima volta che un'azienda, proprio conclamatamente dedicata alla pubblicità, targettizza i suoi utenti e tramite gli algoritmi riesce a profilare al meglio la sua elettorato. Non è la prima volta. È la prima volta che conclamatamente qualcuno che porta contenuti un po' frivoli, diciamo così, o comunque contenuti interessanti per le persone, viene pagata per fare roba. Qual è la differenza, la linea di demarcazione che separa la sponsorizzazione di un politico o di un'azienda? Perché nel senso, gli influencer potremmo quasi definirli dei cantanti di oggi, no? Se facciamo un passo indietro, i Beatles sono stati i primi influencer, nel concetto attuale della parola. E i Beatles si sono sbilanciati parecchie volte, in modo abbastanza... cioè, parlando di tematiche importanti e sociali. Eppure non si sono mai sbilanciati dicendo votate questo tizio qui. Magari non lo fanno neanche gli influencer di adesso, magari gli influencer di adesso diranno robe tipo Ah, immaginati, immaginati politico conservatore e politico progressista in una stanza. Ah, ah, chi muore? E per primo, ah, il progressista perché lui è per la pace, lol, quindi vince il conservatore... Cioè, capi... cioè, non ti stanno dicendo viva i conservatori, ti stanno dicendo guarda che i conservatori sono più forti. I social stanno prendendo sempre più piede. Ormai le campagne si fanno solo sui social. Il populismo che vediamo non è unicamente merito della televisione, è anche merito dei social, che hanno un'infrastruttura tale da premiare quello che va di più, quello che crea più inter... quello che crea più interazione con gli utenti. E quindi un meme, seppur nasce con un'idea, è molto possibile, come peraltro è successo con Bloomberg, che sfuga di mano. E se da una parte Bloomberg conviene, dall'altra no. E lo dico da persona che ha visto nascere l'NPC. L'NPC, se voi cercate nPC meme su Google, è praticamente lo stereotipo del sinistroide americano, che quindi è progressista e quindi non pensa con la propria testa, secondo Not Playing Charter, ovvero sia personaggio non giocante, quindi per la destra estrema l'NPC era quello che non pensava, quello che si affidava al sistema, quello che quindi quando il sistema dice forse ammazzare è sbagliato, loro ti dicevano, ma pensa con la tua testa e se sono ebrei va bene, dai. Sì, l'altra è la mina sempre con gli ebrei. Solo che il processo dell'NPC, cioè le meme dell'NPC, si è evoluto nel tempo e adesso viene usato da entrambe le fazioni per indicare i depensanti, come li chiama il cervino podcast, quelli che non pensano, quelli che si affidano alla società e quindi non hanno spirito critico. Questo cosa ci insegna? Indipendentemente da chi lo fa il meme, se lo fa un'azienda per un politico, se lo fa un influencer a sponsorizzare il politico, se lo fa il politico stesso con pagine corollari create da lui per sponsorizzarsi, non importa, sicuramente arriverà un momento in cui anche la controparte a livello di ideali lo prenderà, lo porterà come cavallo di battaglia e lui definitivamente sarà morto. Vi porto l'esempio di Giorgia, io sono donno, io sono quello che era. Giorgia ha avuto lo stesso epilogo. È partita dall'estrema sinistra per prendere in giro Giorgia. L'ha preso Giorgia, quindi è arrivato all'estrema destra, per semplificare, fino a che entrambe lo utilizzavano e quindi non si capiva più se è con che livelli di ironia lo stavi utilizzando e questo ha portato alla morte del meme. È così che funziona la vita di un meme. Lo crei per uno scopo. Diventa virale, perché la definizione di meme è un pattern che si ripete cambiando solo qualche ingrediente. La chat finta, quindi cambiando le parole dette. Quello che dice il gatto alla tizia che lo guarda strano, cioè il sale messo sulla carne, non importa, cambi qualcosa, ma il pattern è sempre quello. Quindi, a questo è successo, la gente lo condivide, la gente lo rielabora, ed è anche questa la potenza dei meme. Essere potenzialmente innovativi pur rimanendo ancorati a una loro struttura, al loro template, chiamiamolo così. Diventa virale, lo utilizzano tutti e si arriva a un punto in cui anche la controparte lo utilizza per prendere in giro i creatori del meme. Se torniamo all'esempio dell'NPC, appunto l'NPC è diventato il complottista boccalone, e allora lì il meme muore. Quello che è peraltro successo in queste poche ore, pochi giorni, al signor Bloomberg. Ma nonostante questo, c'è da guardarsi bene attorno, perché comunque il fatto che lo utilizzi anche la controparte non è sempre buono. Perché chi è neofita della politica non riesce a distinguere quello che è meme da quello che è realtà, quindi c'è molto il rischio che chi è neofita e non conosca la fenomenologia memistica si trovi ad avere informazioni contrastanti, non sapere cosa prendere per buono, soprattutto considerando il fatto che molto probabilmente chi si trova in questa situazione non è in grado di discernere quello che è una pagina di meme da quello che è un articolo serio, è uno screen di un articolo serio. Quindi si ritroverà a dire, ah sì, allora è vero che il PD mangia i bambini, lol, in realtà anche quella è un utilizzare la retorica populista da una parte, dall'altra parte per percularla e quindi si crea un casino, è per quello che i social sono complessi. Quindi, meme politica è una roba tremendamente complicata e si potrebbe quasi dire che ormai le due cose sono indistinguibili. Ormai qual è il politico che non fa i meme e tra i giovani viene apprezzato? O è un meme lui stesso? Io credo che Bloomberg otterrà risultati da questa roba ed è molto strano e sarebbe molto interessante se quindi vincesse, proprio come ha fatto Trump, che forte della sua meme magic è arrivato alla vittoria. Quindi boh, staremo a vedere, è uno scivolo scivoloso questo dei meme, per quello che io nella mia pagina Facebook, un giovinotto sveglio, mettete mi piace, ho smesso di parlare di politica in modo troppo personale, quindi non faccio più meme su politici in generale, perché il rischio grosso è secondo me sponsorizzare qualcuno senza neanche essere pagati, piuttosto ti fai pagare allora per parlare male di uno o parlare bene di un altro, se no, ok, seguire gli ideali, però così gli stai dando visibilità. A gratis. Questo era quello che avevo da dirvi per oggi, spero che questo podcast vi sia piaciuto, nel caso contrario fatemelo sapere battendo non mi piace e scrivendo nei commenti brutto stronzo muori male ma fa un culo e risolvete sicuramente tutti i problemi. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.